Il Laboratorio Aperto Ferrara un luogo dove sperimentazione, innovazione e cultura si incontrano creando un contesto di partecipazione, ascolto e cultura. Il Laboratorio Aperto di Ferrara è uno spazio in cui i temi della mobilità sostenibile e del turismo culturale si intrecciano con innovazione tecnologica e partecipazione. Il progetto è inserito nel network di laboratori aperti dalla Regione Mila-Romagna che, sinergicamente, collaborano per apportare un cambiamento tangibile in materia di innovazione su tutto il territorio regionale. L'Extrato Verdi è un punto di riferimento cittadino per le imprese che attive il territorio, un ecosistema innovativo in cui il motore sarà la collaborazione. Negli spazi di laboratorio troverete start-up, professionisti e istituzioni che insieme uniscono le forze per fare imprese e che si contaminano a vicenda con nuovi stimoli. Mi chiamo Silvia, mi occupo di comunicazione, nello specifico di copywriting, quindi di scrittura e di social media. Ho scelto come spazio di co-working il Laboratorio Aperto di Ferrara perché è un ambiente in cui le idee si contaminano, in cui abbiamo la possibilità di conoscerci tra di noi e di collaborare, di lavorare insieme a tutta una serie di progetti. Mi chiamo Leonardo, sono un libro professionista freelance, lavoro nel campo della comunicazione e del marketing digitale. Ho scelto Laboratorio Aperto perché è situato nel centro di Ferrara, offre numerosi servizi e permette lo scambio di informazioni fra più operatori che operano al campo dell'innovazione. Qui al Laboratorio Aperto di Ferrara abbiamo la possibilità di fornire lo speed, che è l'identità pubblica che serve per usufruire dei servizi nazionali. Oltre a questo abbiamo il punto di facilitazione, che serve per fare determinate operazioni con il computer o lo smartphone che in autonomia non si è in grado di fare. Infine abbiamo i corsi Pane Internet, che sono dei corsi strutturati su livelli che servono per imparare a sfruttare appieno le potenzialità dei propri device. Il ruolo del teatro è proprio questo, essere intermediario tra il passato e il presente e il futuro del nostro territorio. Vi aspettiamo all'Ex Teatro Verdi, il futuro della nostra città. Grazie a tutti.